Siamo in Viale Crispi vicino alla casa di riposo dei Benedictis e questa mattina un mezzo della Team probabilmente a causa di un malore del conducente ha travolto diverse vetture in transito. Il conducente è stato trasportato attualmente al Mazzini di Teramo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Lei è un'operatrice della casa di riposo dei Benedictis che purtroppo ha subito il danno perché il furgone della Team ha travolto una delle auto che erano quasi tutte dei dipendenti. Sì, purtroppo stavamo lavorando e abbiamo sentito quello che abbiamo sentito e è stata una tragedia per tutti. Grazie a Dio che ci sono salvate le persone, questo sì. Non c'era nessuno che comunque stava passando, le macchine erano parcheggiate? Erano tutte parcheggiate, sì. Che avete sentito, avete sentito? Noi eravamo in servizio in casa di riposo, sì. È stato un buato? Che c'è stato? Un buato, un buato forte. Ci siamo affacciate e abbiamo visto quello che è successo. Che ore erano all'incirca? Non ricordo, intorno alle nove. Cosa vi stanno dicendo? Adesso cosa dovrete fare? Dobbiamo prendere un avvocato e poi penso che ci ripagheranno tutto perché abbiamo solo subito. Quindi sono cose che succedono. Grazie a Dio che siamo tutti, che non ha coinvolto le persone. Però ecco, il danno c'è. Grazie. 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 Grazie.